Buonasera a tutti, l'associazione Forland vi dà il benvenuto e vi ringrazia per la partecipazione al nostro laboratorio. Due minuti di conoscenza, non tutti conoscete chi è Forland. Forland è un'associazione di promozione sociale che ha sede qui a Necattaro, è attiva sul territorio già da 4 anni, si occupa di formazione, servizi alle imprese, consulenza soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro. Siamo qui oggi perché abbiamo voluto fortemente questo laboratorio perché è una tematica che nasce principalmente dalla nostra esigenza. Parlare di management e anche parlare di quello che siamo noi e di quello che vogliamo essere. Se siamo qui oggi è grazie all'Arti Puglia e ai laboratori dal basso che ci ha dato questa possibilità. Ora vi lascio due secondi con il dottor Centrone che è dell'Arti Puglia che ci ha dato la possibilità oggi di essere qui e di organizzare questo meraviglioso corso che ha avuto un grande riscontro sul territorio. Quindi vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto. Grazie, benvenuti. Io sono Domenico Centrone, sono uno dei referenti di questa iniziativa regionale che si chiama per l'appunto Laboratori dal basso, iniziativa nata sotto il cappello di Bollenti Spiriti quindi un'iniziativa rivolta ai giovani e che per l'appunto ha come proponenti le giovani associazioni o giovani microimprese che desiderano acquisire competenze per meglio fare impresa. Quindi un'iniziativa nata dopo un'iniziativa ben più famosa che è quella di Principi Attivi con lo scopo di supportare per l'appunto tutte le giovani realtà che sono nate sul territorio pugliese. In due parole, come funziona Laboratori dal basso? Laboratori dal basso è per l'appunto un'iniziativa che praticamente sposta il focus dall'istituzione direttamente ai ragazzi e da loro la possibilità, quindi passa la palla in mano ai ragazzi e da loro la possibilità di decidere tutto, quindi un approccio totalmente dal basso, l'essenza dell'iniziativa sta nel suo stesso nome quindi sono dei laboratori, dei percorsi di apprendimento che nascono per l'appunto dalla domanda di apprendimento quindi sono le giovani associazioni, le giovani microimprese pugliesi che sulla base dei propri bisogni di apprendimento decidono cosa imparare, come impararlo e da chi impararlo. Quindi questo corso che inizia oggi e che frequenterete nelle prossime settimane è stato totalmente ideato dall'associazione Forland così come tanti altri laboratori che sono attualmente in corso in tutta la regione su vari temi sono tutti proposti dalle associazioni delle giovani microimprese pugliesi che desiderano apprendere per meglio fare impresa quindi le tematiche sono le più disparate a seconda di quelli che sono i settori in cui operano le giovani imprese pugliesi quello che noi facciamo come Arti Puglia è semplicemente, tra virgolette, acquistare, comprare i docenti e farli venire qui in Puglia quindi ai ragazzi la scelta per l'appunto di definire il cosa, il come e da chi imparare a noi dell'Arti Puglia è semplicemente il compito di realizzare, rendere possibile la realizzazione di questi percorsi di apprendimento l'iniziativa di laboratori dal basso si declina in tre azioni, laboratori, testimonianze e mentoring quella a cui partecipate oggi è quello che vi ho descritto, è per l'appunto un laboratorio dopodiché ci sono le testimonianze che sono degli incontri brevi, diciamo della durata più breve rispetto a un laboratorio che è un percorso molto più lungo, degli incontri in cui dei testimoni, dei relatori che abbiano fatto qualcosa di eccellente nel campo dell'imprenditoria e dell'innovazione vengono sul territorio, sempre invitati dai ragazzi a raccontare la propria esperienza, quindi un'esperienza imprenditoriale di innovazione la terza iniziativa è un'iniziativa di mentoring, quindi far beneficiare le giovani realtà pugliesi le giovani associazioni o microimprese dell'esperienza di chi invece ha già maturato una certa esperienza per l'appunto quindi è un percorso, un affiancamento di un mentore a beneficio di una giovane idea quindi il mentore mette a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza, la propria rete di relazioni a beneficio delle giovani realtà pugliesi tutte e tre le iniziative sono attualmente, diciamo, aperte per laboratori, così come anche per mentoring e testimonianze la prossima scadenza, cioè che quindi è l'ultima, dopodiché i tre avvisi saranno chiusi è prevista per giugno per ogni informazione vi invito a visitare il sito laboratoriedalbasso.it o a contattare lo staff di Laboratori Dal Basso noi siamo a disposizione per incontri di coprogettazione e per assistervi anche nella preparazione di quella che può essere una vostra candidatura io vi auguro un buon corso, mi fermerò qui un po', un'oretta circa quindi se avete delle domande potete tranquillamente contattarvi grazie a tutti, buon laboratorio i ringraziamenti si fanno alla fine, invece io li faccio già dall'inizio nel senso che con Forland ci sono stati dei partner che ci hanno supportato dall'inizio, quindi dalla ideazione fino alla realizzazione qui oggi innanzitutto l'ex video che ci ospita e che ringraziamo e che, non so, se volete dire due parole più che altro perché molti di voi, forse molti di loro non conoscono questa realtà quindi magari dire che cosa fate, chi siete magari semplicemente e poi il comune di Necattaro nella persona oggi che è anche il nostro corsista dell'avvocato Lombardo se vuole, insomma, dire due parole Buonasera a tutti, ben trovati io sono Gianfranco Scappelli, faccio parte della gestione di questo luogo più o meno, molti di voi sapranno cosa sono i laboratori urbani sono dei luoghi che sono stati ripensati sulla base di strutture, di proprietà comunali già presenti e in disuso questo spazio, come avete ben visto, è uno spazio molto grande è votato ad accogliere progetti fondamentalmente culturali ma non solo, anche sociali, perché oltre ad appartenere alla rete Buon Denti Spiriti è stato finanziato anche con i piani sociali di zona questa è una cosa che dobbiamo necessariamente sottolineare la gestione è una gestione di carattere imprenditoriale quindi di carattere privato siamo tre enti, diciamo così, tre imprese che gestiscono questo luogo insomma, vi lasciamo immaginare quanto difficile sia oggi fare impresa soprattutto in certi ambiti laddove le istituzioni purtroppo aiutano però fino ad un certo punto quindi non abbiamo, non godiamo di sovvenzioni permanenti questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo deciso di accogliere questo progetto per discutere di problematiche legate al mondo manageriale all'imprenditoria in genere quindi insomma, grazie per essere qui cedo la parola all'avvocato Lombardo Ciao, sono Franco Lombardo sono dirigente del comune di Necattaro e quando gli amici di Forand hanno fatto la proposta di realizzare un laboratorio qui su Exviri sono stati praticamente contenti e rivolgo, diciamo, chiaramente i saluti dell'amministrazione per questo laboratorio e siamo particolarmente, diciamo, contenti di ospitarvi tramite, diciamo, la struttura Exviri perché riteniamo effettivamente che gestire e conoscere le migliori modalità per gestire è la chiave del successo qui proprio parafrasando un attimo con il titolo, diciamo, del laboratorio la gestione, la buona gestione assicura il successo è una realtà come la nostra dove ci sono tante piccole imprese è necessario investire molto nella formazione degli imprenditori per far sì che ci sia uno sviluppo di una ricchezza collettiva sul territorio e che questo poi, diciamo, produce non solo ricchezza materiale ma anche ricchezza culturale quindi, diciamo, per non perdere tempo grazie, lo diciamo noi, per l'amministrazione dei nostri confronti A posto Allora, veniamo ad oggi come sapete, quindi oggi parliamo di comunicazione in pubblico il relatore di oggi è Riccardo Agostini live public speaker a livello internazionale ci raggiunge da Barcellona ed è un grande esperto della tematica lascio subito la parola a lui vi spiego un po' come potrebbe andare il laboratorio il laboratorio sarà molto interattivo quindi se avete delle domande, degli interventi da fare potete farli in qualsiasi momento se avete bisogno di altra carta per prendere appunti a qualsiasi altro tipo di esigenza potete rivolgervi a noi basta grazie Riccardo oggi parleremo cinque ore di public speaking paura, eh? ok, adesso sorprenderemo Lello Lello è questo bravissimo ragazzo che ha montato questo stupendo scenario e mi ha detto Riccardo va bene? benissimo però vi confesso che a me piace l'improvvisazione perché come diceva Mari-Lisa a me piace anche l'interagire con il pubblico che voi vi divertiate perché sarei egoista vengo qua e mi diverto solo io no Francesco? no conoscete il ristorante Nonna Maria, giusto? quanti lo conoscono? è di qua, eh? non è qua nessuno di dove sei Francesco? ok quanti sono di noi Cattaro? ok, ok non, non, non la negativa, eh? confonde ma no Tommaso mi ha consegnato a Francesco del ristorante Nonna Maria e poi mi sono messo a parlare con Francesco e mi dice Riccardo ma tu che sei venuto a fare oggi? secondo voi per quale motivo siamo qui oggi? la domanda è è ammesso tutto, eh? anzi io consiglio sparate qualsiasi idea venga a mente sparate l'errore è ammesso c'è un problema che noi ci abbiamo avuto a scuola perlomeno dove andavo io che le maestre ti dicevano dai Riccardo se tu hai un'idea qualsiasi cosa dilla poi tu ti alzavi e venivi preso in giro da tutta la classe quindi che succedeva? che tu non ti alzavi più ok ma assicuro che non lo faccio ok questa per me è una regola che non funziona perché siamo qua oggi o perché siete voi, eh? io io lo so voi lo sapete? scusate per apprendere qualcosa di nuovo qualche segreto qualche qualcosa che magari è un'esperienza l'unità non abbiamo mai ok forse speriamo questo nome? piano piano ricordo tutto sì alla fine sono le lezioni quindi qualcuno può parlare di tutto come come? a tutti gli anni in un paese poi ci si e ci sono le lezioni quindi bisogna incominciare a parlare di pubblico in un paese perché non parlare sai ci sono tanti politici che adesso mi contattano Riccardo un intensivo ma se i comizi sono diciamo se sono validi efficaci perché ormai il discorso che c'è internet ci sono altri tipi diciamo di comunicazione per me i comizi potrebbero essere più il più della campagna elettorale però come era il nome? Franco Franco ti dico quello che vedo che non c'è miglior forma di comunicazione che quella umana perché quando tu sei qui quando sei davanti alle persone loro ti guardano negli occhi si 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 no ma è vero è cambiata molto la forma di comunicazione però quella più sincera è quella umana tu mi vedi e tu da là seduto Franco mi prende in giro o dice la verità lo leggi meglio lo sguardo l'animo di una persona quindi si però secondo me parlare in pubblico serve soprattutto a un politico ma non è questo il motivo per cui siamo qua mi permettete? si? fa caldo in genere Francesco esagero io arrivo fino al costume però oggi ho detto non ho fatto la ceretta allora presto ok altre idee altre idee perché siamo qua oggi? prego qualsiasi idea e chiedo collaborazione perché questo è solamente l'inizio com'è il nome? Don Battista lo sai perché ho preparato questo stupendo palcoscenico? anche per te anche per te idee perché siamo qua? Leo vai spara una si come come? eliminare le patate da scopo ok 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 quasi bene ma ancora no idee? la zona calda è questa eh il messaggio a tutti saper comunicare in maniera più efficiente possibile ok ma non è fare un'esperienza ma non è migliorarsi ma non è ma non è sono tutti la serie giudizionale ma non è ma non è bello perché ognuno ognuno ha un obiettivo secondo me questo è la cosa utile sì sicuramente ragazzi hanno parlato solo loro eh io dico pensare prima di parlare pensare prima di parlare ma non è prego non c'è errore o meglio avete tutti ragione fino adesso ma non è il mio il mio motivo per cui sono qua cioè quello che vanno venduto loro non è vero ok provate provate è molto efficace davanti a un pubblico però non è facile soprattutto quando si non inizia l'esperienza proprio nel comunicare qualcosa che uno ha da dire allora è facilissimo farsi capire da una pratica cambia che essere un quadruano quindi ok esatto ma non prego com'è il nome? ma? Marianna Marianna lo so che già te l'ho detto la seconda volta Marianna cosa pensi che troverai oggi a questo incontro? non lo so sono solo curioso curiosità curiosità io sai che si avvicina? curiosità si avvicina a quello che mi spinge oggi ad avvenire qua con voi Francesca Francesca pensavi Francesca ultimo poi ve lo svelo beh anche essere spinta a parlare in pubblico cioè avere quindi tu mi stai chiedendo che io ti obbligo a parlare in pubblico no cioè avere un aiuto per poi essere gravi ok chi gioca a calcio? chi ha giocato? chi? non ho visto le mani scusate è Gianluca ok e Gabriele da quanto tempo? più o meno più di 15 più di wow chi altro? golf? tennis? no calcio calcio o hai giocato o stai giocando ancora da quanto? più di 30 anni 30 anni ok c'è qualcuno che ha fatto uno sport per tanto tempo così? Francesca è appunto atletica quanto? 5-6 anni 5-6 anni non sono pochi 5-6 anni forse migliorarsi vedi funziona perché curiosità no? eh sì dopo piano piano vi spiego tutto quello che facciamo ve lo spiego eh garantisco no Gabriele avete alzato la mano ho fatto padavolo da 15 anni quindi ah fu quindi capire di loro il fatto che avevi il suo percorso per di tornarsi la cosiddetta esperienza mi racconto io adesso ho 36 anni però ho giocato a pallone da da quando ne avevo 15-16 più o meno ho cominciato 13 scusate 13 e adesso sono passato di categoria faccio l'allenatore perché non ce la faccio più faccio sempre male ho cambiato faccio l'allenatore perché? organizzare no fisicamente non ce la faccio perché ha 36 anni promette male no? io mi ricordo la prima volta a 13 anni quando ho preso il pallone in mano ragazzi era un disastro io ho giocato come portiere era un disastro però mi sento un'ora mi sento un'ora mi sento un'ora mi sento un'ora facendo il portiere sta in permesso ti metti in porta ti voglio non lavorare però no perché ho visto che correre non andava quindi ho detto mi metto in porta il ruolo più delicato sì di responsabilità sì basta un errore entra il gol ma c'è un motivo per cui ognuno di noi fa qualche cosa per tanto tempo perché? vi divertite esatto vi piace vi appassiona venite qua oh partita di calcetto via tutti gli amici poi vai tutti a cena festa è per questo io oggi sono qui perché voglio che voi vi divertiate ogni forma di apprendimento ragazzi passa per il divertimento se voi non vi divertite lo lasciate quindi per me oggi è importante che voi ve lo passiate come dicono in Spagna bomba che voi vi divertiate che state che state bene che vi sentiate comodi che abbiate voglia di mettervi qui di mettervi qui e provare questo è il mio obiettivo e come ha detto Maria Lisa ok chi è no scusa Luigina chi è Riccardo ok io sono un pendolare internazionale vivo a Barcellona in Spagna dove mi chiamano per lavoro vado ho lavorato per Ericsson Malfega BNL lavoro con scuole a Milano Viterbo lavoro con politici chi chiama se è possibile funziona vado ma secondo me la cosa più interessante è capire come una persona inizia a parlare in pubblico mi è successo un po' quello che è successo a qualcuno di voi qualcuno ha detto Marianna sono venuto qua per curiosità a me cosa è successo che io una sera era a Barcellona torno a casa la mia ragazza mi fa Riccardo Riccardo mira non si è chiamato un mail non si è invitato come 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 un uespede nel curso nel club d'oratoria ci hanno invitato come ospiti nel club d'oratoria wow non volevo non mi interessava assolutamente niente niente però che fai per amore c'è chi si lancia fa budging jumping no chi fa l'uomo sta in pelle al supermercato e tiene gli abiti delle donne mentre provano i vestiti e sono andato a questo club d'oratorio e sono entrato 14 persone che parlavano io dopo più o meno 20 minuti mi sono indormentato ho promesso il cervello in off non ho ascoltato più niente poi che succede in questi club che arriva un momento in cui senti ti svegli era finito e ho detto perfetto è finito andiamo a casa l'ultima volta andiamo a casa e invece no c'era il domandone lo sapete qual è il domandone Riccardo come ti è sembrato questo corso io c'è un problema c'è un problema che a volte sono troppo sincero e quindi quando mi hanno detto che cosa ne pensi di questo corso io a Marianna sono stato sincero ho detto che mi sono un po' annoiato 14 persone se non aggiungo qualche cosa qualcuno mi salta il collo ho detto no mi sono annoiato perché era in inglese e io non è che lo capisca benissimo e allora ho detto ok l'ho risolto invece no si alza un signore che dopo ho avuto il piacere di conoscere Joan vestito giacca cravatta mi dice chaval ragazzo Riccardo non ti preoccupare noi facciamo una volta una sessione in inglese ma ce la facciamo anche in castigliano e dico che fortuna e quindi che fai non c'avevo più scuse e sono tornato sono tornato con la mia ragazza con Anna mi sono iscritto e ho fatto i primi discorsi e nei primi discorsi tu impari un po' la base del public speaking che più o meno è questa si vede ragazzi ok titolo introduzione corpo e finale se vuoi fare un discorso se lo fate così conquistate diciamo ve la battete con Obama però mia sorella mi dice tu Riccardo sei un artista perché quando c'è da lavare i piatti io divento artista improvvisamente gli artisti non lavano i piatti di casa e quindi gli artisti hanno difficoltà a rimanere negli schemi e io ho fatto il primo discorso davanti al pubblico il secondo discorso davanti al pubblico il terzo discorso davanti al pubblico del club e alla fine mi sono annoiato perché rispettare le regole forse a noi italiani non ci va troppo bene ho detto cioè Giovanna o lo faccio come piace a me o smetto Anna giusto? e il quarto discorso si chiamava come conquistare una donna con una rosa e sono entrato in sala con una giacca bianca a righe un cappello a falda rosso con un fiore qui davanti e con le rose in mano mi sono divertito come un pazzo e facevo dichiarazioni d'amore e non è la cosa incredibile era che non è che mi divertivo solo io le persone si divertivano e io lì ho capito la cosa la cosa più importante quando parliamo in pubblico non parliamo in pubblico ho svelato il mistero non stiamo parlando in pubblico noi parliamo con il pubblico noi parliamo per il pubblico questa è la cosa più importante quando voi siete qua non siete voi la star della giornata voi vedete io faccio un sacco di esagero qualcuno mi dice che esagero però lo faccio perché siete voi la star della giornata le stelle per me è importante che io riesca a mantenere la vostra attenzione sveglia fino alle 8 quindi quando siete qua dovete farlo per loro quando pensate un discorso pensatelo per loro per chi vi ascolta la domanda è cosa interessa al pubblico cos'è che tiene sveglio il pubblico e a volte facciamo un errore mercoledì credo mercoledì era a Milano a un concorso come giudice in un concorso d'oratorio organizzato dalla regione Puglia se non sbaglio we debate e era la finale valutavo l'ultima la segnazione del primo e del secondo posto e mentre ero con altri due giudici sento una persona che mi dice ma secondo te Riccardo è corretto che quel ragazzo ha raccontato un'esperienza personale secondo me è corretto se no provate è un po' un azzard 50 e 50 perché non abbiamo spiegato niente però così è intuito io vi racconto un'esperienza personale attinente al tema secondo voi è corretto o no? anche secondo me a volte noi analizziamo il discorso troppo in maniera troppo didattica era corretto perché lei non capiva se era corretto o no ma lei questa professoressa non si era accorta che quello che gli era che si ricordava di tutto il discorso era proprio quello era l'esperienza personale di quel ragazzo quel ragazzo ha raccontato una cosa per il pubblico e ha funzionato però lei lo analizzava non lo so da professoressa in maniera tecnica e non lo vedeva quindi quando siete qui prima cosa qual è? parlare con lei per il pubblico se oggi finisse improvvisamente anche in ogni modo quando finirà la sessione della giornata c'è una cosa più importante che vorrei che ognuno di voi si ricordasse divertimento quando venite qua divertitevi fatelo con gioia perché lo farete oggi eh? ok avete letto quanti libri di oratorio avete letto? se avete questa Francesco uno ma ho provato così sono scappati giusto per avere una infaridatura generale che come si chiama? un titolo parlare in pubblico parlare in pubblico non so neanche chi lo trovo però penso sì hai provato quello che ti ha detto il consiglio che ti ha dato mi ha fatto capire qualcosa che magari non sapevo proprio nell'approccio con il pubblico ok ok qualcun altro di voi ha letto qualche cosa Marianna? no no scusa? Domenico no te lo richiedo perché Gian Battista no qualcuno di no c'è tanto di tutto e tutto secondo me è buono ci abbiamo solamente un problema se io lasciassi qualcuno di voi è un bambino un figlio una figlia no se lasciassi a un bambino o anche a un adulto un manuale per giocare a pallone credete che lui riesca a giocare a pallone? no il manuale per parlare in pubblico è buono perché ti spiega la tecnica ma che manca? esatto quindi quando le persone mi chiedono Riccardo ma quel corso che tu vendi sulla pagina web funziona? io dico il corso funziona però l'obiettivo è che tu lo metta in pratica perché se stiamo qua 5 ore parlo solo io oggi lo rompo Lello se parlo solo io ragazzi non funziona quindi è importante mettere in pratica tutto ciò che faremo abbiamo 5 ore 4 proviamo il minimo va sicuro che funziona si? 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 si bene una cosa quando che succede? quando voi siete qua non perché mi chiamo Riccardo immagino giusto? voi siete qua perché vi aspettate qualche cosa da me quindi ritorno a ripetere quando parlate le persone si aspettano qualche cosa da voi il tornare dal portiere quando ero un bambino uscivo da casa stavo a casa giocavo con i masters qualcuno si ricorda i masters? Skeletor i men Sheila ok giocavo con i masters la mamma mi diceva dai Riccardo esci esci vai a giocare con gli amici vai a giocare a pallone io scendevo ciao ragazzi mi chiamo Riccardo mi guardavano un minuto poi dicono cosa ci interessa? niente e un giorno ho detto cambiamo strategia ciao mi chiamo Riccardo e sono portiere questo funziona questo per tornare a ripetere stabilite cosa deve sapere il pubblico quando voi entrerete sul palco sì o no? sì bisogna che scacco questo una cosa prima di iniziare una cosa interessante tutti sono disposti a farlo oggi? potete scegliere tra vi do le opzioni perché Riccardo è il giusto potete scegliere tra parlare in pubblico rompere una freccia con il collo o c'è la terza opzione l'abbiamo preparato poco fa con Tommaso qua o camminare sul fuoco che scegliete? no come no qualcuno sceglie la 3? per favore chi sceglie la 3? com'è il nome? Maria Luigia perfetto sono le scalzi no no scalzi Maria Luigia la 2? la freccia? ok la 1? ok iniziamo con la 1 allora parlare in pubblico c'è una cosa a volte che ferma le persone che è? la paura la paura ragazzi si Gianluca fammi un esempio di paura la paura di dire qualcosa di sbagliato ok paura del qualcosa di sbagliato dell'errore? si o di comunicare magari in maniera non corretta o di non fare arrivare il messaggio o di perdersi nel discorso quindi non essere diretto ma devi fare tanti giri e poi perdere fino nel discorso quindi non essere lineare e non essere chiaro si ottimo com'era il nome scusa? io si Lella 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 paura? giudizio giudizio fammi un esempio quello cosa potrebbero pensare se nella integrazione di quello che ha detto Gianluca lui ha paura di non essere chiamata di esposizione di perdersi mentre risponde io invece aggiungerei che il pubblico magari giudica come esprimi quello che non ci contenuti come se si comunicati se si empatica cioè ecco questo però è la paura dell'entituzione ok altri tipi di paura di sbagliare sbagliare cosa? grammatica magari non essere spessivo giusto non essere come c'è ok magari prefessarsi degli obiettivi dopo quella comunicazione e non avere i risultati come il quale vuoi far recepire un titolo o qualcosa per esempio in una riunione o una semoria far recepire il contenuto ok che arrivi il messaggio che arrivi il messaggio proprio cioè riuscire a a coinvolgersi nel modo come hai esporto prima però la donna di aver fatto un flop dopo di una cosa è un po' cioè da un senso di sconfitta personale ok ok Maria Lisa secondo me anche paura proprio di errore di espressione di come ti esprimi proprio anche a livello grammaticale magari sbagliare qualche conditissimo qualche errore proprio grammaticalmente da glado no paura annoiare sveglio ok altre paure vista ok altre paure secondo me l'improvvisazione quando un discorso viene preparato forse diciamo la paura diminuisce perché hai sotto controllo diciamo tutte le parti del discorso ma quando bisogna improvvisare al momento su una tematica X allora in quel caso diciamo c'è la paura di non sapere cosa dire così ok anche al contrario Riccardo magari la paura di dire troppo cioè di andare oltre cioè raggiungere l'interesse della persona dopodichè però parlare troppo significa annoiamola ok quindi capire i tempi giusti riuscire a capire i tempi giusti per per far arrivare il messaggio ok do una breve risposta agli ultimi due poi dopo per gli altri facciamo un'altra un'altra prova i tempi giusti non ci sono o meglio tu prepari un discorso e in teoria il discorso te lo dimentichi quello che fai quando parli in pubblico tu il discorso lo sai bene e guardi il pubblico tu guardi il pubblico e vedi se abbassa il livello d'attenzione se si addormenta perché arriverà il momento in cui si addormenta quindi trovi trovi cose nuove il pubblico ti dice se si annoia Gabriele e tutti gli altri a questo punto ricordate qual era la paura la ricordate quella che mi avete appena detto si che consiglio vi da perché le persone vengono a me e mi dicono Riccardo io vorrei eliminare la paura di parlare in pubblico e io sapete che dico non lo fare non lo fare giuro Francesco io dico non lo fate non eliminate la paura di parlare in pubblico perché se io non avessi paura di far brutta figura oggi con voi sarei venuto giù e ho detto non lo preparo al discorso che me ne frega e ho andato lì e racconto quello che so invece no io ogni volta ve l'assicuro ogni volta che presento un discorso e a volte è sempre lo stesso io inserisco cose nuove aneddoti nuovi e me lo ripeto ogni volta perché paura ho paura che mi dimentico i passaggi ho paura che le persone si annoiano quindi non levate mai la paura dalla vostra vita se io non avessi paura magari mi lancerei anche da da un terrazzo perché non avrei paura non avrei paura di farlo quindi lo farei e la paura che vi dice un esempio una paura di annoiare ok quindi che dovresti fare nel tuo discorso se non vuoi annoiare qual è l'opposto ok come diverti il pubblico vuoi che salti il pubblico vuoi che balli sì o no cosa vuoi che faccia come la mantiene l'attenzione come che faccio io il tono di voce come ti muovi quello che dici le storie avete visto io sono andato a pranzo da nonna maria questo è vero ma non è che con francesco abbiamo parlato di quello che facevo io oggi no però voi lo ricordate sì o no forse anche uscire come la patoletta esatto quello che chiediti quello che volete prego però mariana quello che ti dico apparentemente sicuro di ma io mi sbaglio un sacco di volte e io accetto lo sai il cuore che batte forte l'alza di prestazione no no dopo dimmelo che ti racconto una storia di mario se nel caso me ne dimenticassi dimmelo che ti racconto la storia di mario sulla paura è grande me l'hai ricordato una cosa però anzi all'inizio all'inizio comincia così poi quando diciamo si nota la riunione o si parla comincia ad andare un po' più di impagatezza non fa parte quindi è all'inizio quello si si poi piantiamo che la riunione ma ormai si riscala non è bene poi ci si rilassa perché c'è quando ti rilassi però stai attento che non sei rilassato solo tu e loro sono troppo rilassati perché magari cioè tu ti senti comodo però loro non sono interattivi o non ascoltano perché è vero all'inizio le persone sentono più stress e quindi sono agitate e dopo mentre parlano si sentono comode vero? lo proverete lo vedrete vi sentirete sempre più comodi scusami mi sono espresso mal qual è la paura che dicevo io? sentirmi troppo comodo io e poco comodi gli altri poi alla fine cioè passare poi alla fine l'attenzione è solo su se stessi sì però è la storia del terzo neurone la conoscete la storia del terzo neurone quando tu fai una vitaccia com'è il nome? Gianna te ne rimangono tre nel caso mio mi sono rimaste tre e io due li lascio qua che parlano e il terzo lo metto qua fuori e il terzo guarda a me mentre parlo e guarda la reazione della sala quindi è quella la risposta cioè sì io mi sento comodo e parlo però c'è il mio terzo neurone che guarda a voi sempre e cerco di fare in modo com'è il nome? sì santa scusa te lo chiederò altre volte che santa non stia così tutta la lezione ok cerco o che com'era il nome? no 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 sì sì ma tanto no no non ti preoccupare santa ho visto anche gente sdragliata dopo io in genere mi lancio dopo approfitto però com'era il nome? Maria Luigia Maria Luigia per me è un problema lo sapete perché? perché è lontana e è dietro a Lella quindi io devo stare attento ogni tanto spostarmi qua e guardare anche lei questo è il terzo neurone no 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 va bene è un esempio quando quando parlate le persone più difficili da guardare sono loro e loro quindi il terzo neurone mi dice ok Riccardo ti sei scordato Domenico ti sei scordato Domenico ti sei scordato Anna ti sei scordato Luigina e quindi tac ogni tanto mi giro dico guardo per esempio Francesco è quello che mi viene meglio perché ce l'ho davanti poi è un bel ragazzo lo vedo meglio invece è Luigina Domenico Anna Maria Luigia per me sono più difficili ok però la differenza come in questo caso che si fa si esce pure tra gli schemi è diverso quando si entra adesso finora l'unico istituzionale dove ci sono i famosi tavoli dove devi sedere un tuo posto assegnato quindi non puoi alzarti e non puoi andare da seduto quindi ormai hai sei diciamo in una gabbia dove non puoi il messaggio che mi farò rimane in questo dalla posizione dove si esce questo è un po' come dire le riioni un po' più credo che sia così il nome credo sia così Nick Budicic lo conosci Francesco? esatto è un ragazzo che credo che abbia l'età mia più o meno credo qualche anno di più forse ok lui è nato senza braccia e senza gambe quindi lui lo appoggiano su un tavolo e lui ti parla da quel tavolo se hai modo cercalo su youtube e vedrai che senza muovere le mani senza muovere le gambe ma semplicemente attraverso l'espressione del viso e attraverso la voce riesce a far commuovere far ridere le persone quindi si non è una questione il limite lui dice che il limite non esiste è reale il limite non esiste quello che vi dico io io oggi lo faccio così un po' esagerato come vedete ma poi lo adatto ad ogni contesto quando lo faccio l'ho fatto uno in un ospedale San Giovanni De Deu a Barcellona con i bambini sono dei ragazzini che vengono curati per cancro ho fatto questo spettacolo che è come con voi racconto le storie e e lì ho scoperto che i bambini reagiscono in una maniera diversa rispetto alle persone ho fatto l'errore qualcuno vuole salire sul palco io io ho 200 bambini io io ho detto ok dopo quindi va adattato io ho capito bisogna che adatto il discorso l'espressione ad ogni contesto quindi in un contesto come dici tu più composto va bene un'altra un'altra postura ma non togli che non puoi utilizzare le stesse tecniche lo fai con lo sguardo tu guardi a tutti loro e non è che è come tu 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 no guardi un po' là guardi un po' qua quanto è il tempo giusto per guardare le persone? 4 secondi 4 secondi sì sì ma 3 3 6 secondi va bene se vi guardo più di 6 secondi se ti guardo 10 secondi interrottamente distratto ti imbarazzo sì ti imbarazzo e se vi guardo così se vi guardassi così distratto o insicuro vero? sì quindi anche lo sguardo vuole la sua parte quindi non avere lo sguardo perso lo sai quando c'è lo sguardo perso? provate a indovinare perso? perso quando non sei concentrato quando sei concentrato? Gabriele? questo è il caso quando sei concentrato come stai pensando? Anna? per esempio ok quando hai trovato forse magari stai recitando cioè stai passando stai a memoria stai ripetendo le cose che si fanno manuale facciamo una prova? Francesco facciamo una prova? vieni qua vieni un attimo ti chiedo non è parlare adesso un'altra cosa francesco metto qua mi dici cosa hai mangiato a pranzo? come ti vedi vestito con una tutina aderente rosa? immaginati come ti vedresti? descrivisci come ti vedi in un contesto come ti vedresti? tutina aderente rosa sì ok a posto grazie ok quando ho chiesto a Francesco cosa ha mangiato dove ha guardato? un attimo un attimo un attimo ci ha guardato sì o no? non ho fissato più negli occhi giusto? esatto e ha mangiato così esatto quando noi ricordiamo o quando dopo di do alloggio non vedo bene non ho gli occhiali ce li ho nella borsa quando avevi detto la tutina rosa io non ho guardato non ho visto dove guardava se a sinistra o a destra non so se l'avete notato o se guardava dritto non ci ho fatto capire perché quando noi pensiamo ad una cosa che abbiamo fatto realmente magari come nel caso di Francesco guarda a destra se noi dobbiamo immaginare una realtà guardiamo penso nel caso tu non l'ho visto confesso a sinistra perché magari nella parte sinistra tu immagini crei una cosa non reale nella destra la elabori uno che hai visto esatto se tu è un'altra parte del mio lavoro però è questo tu misuri le persone fai due o tre domande per vedere dove muovono gli occhi a seconda della realtà che chiedi loro di immaginare e poi mentre ti raccontano osservi sempre gli occhi però quello che nel caso del public speaking che succede? che quando noi dobbiamo raccogliere delle idee allora spostiamo gli occhi ed immaginiamo immaginiamo e nella mente cerchiamo idee per questo perdiamo il contatto con la sala l'idea è che se voi sapete ciò di cui dovrete parlare non perderete mai il contatto o vi capiterà a me capita che sei talmente abituato a guardare le persone che io guardo a Giovan Giovan Gianna e magari penso a altre cose esatto guardo a lei e dico ok ora che devo dire e resto in silenzio nel frattempo penso per non perdere lo sguardo la cosa migliore è imparatelo bene quello è il discorso e poi non perdete mai lo sguardo alla sala mai oggi io sono contro powerpoint faccio una quindi è importante sapere quello che si sta dicendo non a memoria però di essere padronissimo di quello che dovresti dire si aiuta tantissimo la padronanza di quello che è un problema non sarebbe un problema diciamo andare troppo a memoria non sarebbe più impazzaggioso tanto a dire improvvisare un po' non imparare il discorso in maniera troppo schematica poi potrebbe saltare un pezzo magari e non ci ritroveremo mai con il figlio però non parlavo di demone cioè essere padroni di quello che dici ma non sapere perché se no non mi piace sì è il problema cioè sapere ma non imparare le persone che mi dicono Riccardo però quando parliamo in pubblico perdiamo la spontaneità ci sono due fasi tu parli in pubblico e sei spontaneo fase 1 ma funziona male perché non c'hai la tecnica fase 2 impari la tecnica e sei schematico c'è la fase 3 che mi dimentico del discorso della struttura precisa ripetuta a memoria del discorso e è un mix tra la struttura che ho scritto preparato e la mia spontaneità lo metto insieme e funziona quindi il primo passaggio ok spontanei siete spontanei o non lo so diventiamo spontanei o acquisiamo sicurezza c'è una tecnica Marianna geniale non la ricordi se mi scordo Riccardo c'è una tecnica per spontaneità geniale non la ricordi dimmi così dopo ti sei scordato spontaneità le acquisiamo tecniche le acquisiamo fusione e funziona le paure parlo 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 della paura chiudo questo capitolo poi le due cose adesso rispondo al problema di ansia da prestazione di cui parlavamo prima eh Mario allora un giorno mi è venuto a trovare un ragazzo si chiama Mario un ragazzo 18 anni non mi ricordo un po' di tempo fa 18-20 santa c'era avuto informa informissima andava in palestra in gamba e è venuto mi ha detto Riccardo io ho un problema e faccio la prova con te se non la risolvo con te vado dal medico per farsi prescrivere no Prozac no Xanax Viagra Franco a volte succede a volte succede insomma vi dico ma Mario ma qual era qual è il problema Riccardo è che io quando mi avvicino una donna perdo l'erezione Mario vabbè capita può capitare un uomo può capitare no no Riccardo te lo assicuro ogni volta ogni volta che mi avvicino una donna perdo l'erezione ma quando ti masturbi perdi l'erezione no 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 quando mi masturbo no ok con la donna si masturbo no la domanda è qual è la differenza tra far sesso con te stesso e far sesso con una donna se quando fai sesso con te stesso mantieni l'erezione quando fai sesso con una donna non mantieni l'erezione il problema non è fisico ma mentale se quando tu parli a casa da solo davanti allo specchio e sei uno showman e quando ti metti davanti al pubblico sei un disastro la differenza qual è? fisico o mentale? fisico esatto e c'è la famosa tecnica di Marianna segnatela questa forse è la cosa più importante per favore segnatela segnatela tecnica di Marianna ok vi chiedo un momento di non guardare chiudere gli occhi comunque chiudete gli occhi e non guardate la lavagna tutti anche i ragazzi di Forland Luigina te osservo Anna non per molto però è Riccardo no 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 ok potete aprire gli occhi questa è la tecnica più importante della giornata segnatela per favore se mi dovessero dare un premio spero che sia per questo segnatela veramente prendete appunti il motto della giornata è divertimento e chi se ne frega assolutamente perché com'è? noi ci prepariamo al meglio al meglio prepariamo il discorso al meglio lo pratichiamo al meglio superiamo reinterpretiamo le paure ovvero cosa ci dice la paura? che non voglio annoiare il pubblico quindi lo voglio divertire la domanda è come lo diverto? quali erano le altre paure? qual è il consiglio che vi dà la paura? preparate tutto al meglio e poi quando siete qui è chiaro o no? è chiaro o no? sì ottimo adesso una piccola analisi di tutto ciò che avete visto e poi da da si cammina sui carbone da carbone? non ero io ho uscito la prima cosa avete notato? cosa ho fatto fino adesso? tutte le cose che avete notato che ho fatto io perché così le analizziamo tutte perché una giornata non è di bravo 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 batto le mani spesso sorri sembro il joker sorrido e il sorriso crea empatia vedi una persona che sorride e la guarda e dice saranno 5 ore divertenti se entro qua non mi riesce però se entro qua a serio è complicato è vero tu pensi ma guarda che mi tocca oggi 5 ore e poi non mi posso nemmeno alzare che la sale piccola si accorgono ok sorride è vero sorridete altra cosa che avete notato fin di dimenticare i nomi per chiamare l'attenzione quello è vero Giordi no perché siete tanti adesso Marianna Domenico Gian Battista Francesca Francesco Gianna Anna Santa e lì ho perso Domenico 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 loro due me li ricordavo perché erano vicini quindi Domenico e Domenico e non ho gli occhiali Stefano Marilisa Tommaso Luigina Lella Franco Giuseppe perché sono tutte 3G Giuseppe Gianluca Gabriele Giovanni lì me lo fate difficile Giovanni Leo e Maria Luigia perché e Anna mi sono detto tutti no? è importante ricordarsi nessuno di noi è stato capace di fare queste cose però hai dimenticato Lello 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 sì è importante ricordarsi i nomi delle persone sì se potete ricordatele alle persone la cosa che fa più piacere è sentire il proprio nome sapere che una persona si ricorda il proprio nome è bello fate il regalo alle persone mi ricordo il tuo nome a volte non ti riesce perché sono tanti però se potete fatelo vuoi chiamare qualche volta? quante volte vi chiamo? parecchie sì e vi chiamo sempre per nome perché vi chiamo? per accorciare distanza sì che altro? per riprendere l'attenzione esatto perché se chiamo a te tu ti senti parte dello show e loro fanno parte del pubblico del resto del pubblico quindi sono con te e riottenete l'attenzione della sala che altro avete visto? mi muovo muovo un po' le mani? di cosa avevo visto? perché nella conversazione non parla sempre un interlocutore ma ci sono questi interventi con cui riesce a diventare piacevole la diciamo la notte esatto ma non è così no no è così è così velovo dire due cose io mi sono dimenticato una però rispondo la tua le persone mi dicono facciamo dei corsi di teatro come parlare in pubblico no perché nei corsi di teatro almeno che tu non li fai interattivi tu sei sul palco sei l'attore e c'è il pubblico invece no quando tu parli in pubblico è vero tu c'hai l'ottanta anche il novanta per cento del dialogo però ci deve sempre essere sempre interazione sempre come gli show per esempio di Fiorera che fa col pubblico c'è un po' di schede che mi fa intervenire una persona con un piacere no 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 è tanto che non lo vedo però però comunque ha avuto successo perché tutto lo spettacolo viene coinvolto anche al pubblico per cui anche alcune piccole cose fanno parte della tua show esatto quando parlate quindi fate come il fiorello ricordatevi devi parlare un po' con uno un po' con un altro sorriso la patutina ma ci sono piccoli elementi che poi portano anche l'azione di campo l'azione di tutto esempio quando hai chiamato un amico la forma di telegiore fisica non c'è non solo è quello che diciamo come va un animatore mette insieme le persone c'è anche la reazione comportamentale forma il punto il suo da fare il suo assolutamente per me ve lo assicuro per me la cosa più importante è che voi usciate qua questa sera e vi rimanga qualche cosa quindi è importante che ci sia partecipazione che voi vi sentiate comodi che proviate quindi è per questo che faccio creare questa dinamica so che funziona e poi c'era un'altra cosa che mi è spiugita Maria Maria Luigia sono dimenticato ragazzi di che parlavamo di cosa parlavamo prego prego come come battare battare in un gruppo di persone dove c'è comunque deve rispondare questa interazione ed è una modalità altri invece quanti di battare a un gruppo di persone per i quali però non c'è una interazione mettiamo qui il famoso comizio o parlare in chiesa a me è capitato la mia vita scorsa di leggere un sabbio una paura di leggere un sabbio che è una cazzata per quello che bisogna leggere comunque l'ho avvertita in base all'avvertito superato non c'è stato e non c'è il problema dell'interazione perché è un gruppo unico compressivo una domanda di un teore dovrei ascoltare questa domanda c'è differenza quando tu parli di gruppo di persone per le quali c'è l'interazione rispetto al momento in cui tu parli di gruppo di persone per le quali non c'è l'interazione è dato l'ascoltato tipo lettura in chiesa per esempio non fai domande la questione del salmo la lettura in chiesa l'unica cosa che fai è varietà vocale l'unica tra me sia un contesto che non lo frequenti spesso perché se per la prima volta entri in una chiesa e ti dicono di fare una leggere già hai questa difficoltà di stare nel posto che non è il tuo più ti dicono di stare di fronte al pubblico e di stare a leggere quindi secondo me già è una situazione differente semplicemente ma fai tutte le domeniche non è che poi si 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 riesce ad abituarsi a sentire la propria luce però l'unica cosa che tu lì puoi mettere in risalto è la voce non è che parli entri in sintonia con le persone tu interpreti la lettura la questione politica parlare il pubblico rispetto al pubblico che può essere il tuo potenziale interlocutore è un qualcosa di diverso rispetto a parlare il pubblico rispetto al pubblico il quale non sa per definizione non sa il tuo potenziale è la stessa cosa o no? non ho capito se il pubblico è interlocutore io parlo il pubblico però per definizione il pubblico non interessa il comizio parlo il pubblico in assemblea dove per definizione ci sarà un idone o un intervento sono due situazioni diverse che hanno dei metri diversi sono due valori diverse questo non c'è un approccio quando non c'è no non ci sono tecniche diverse però togli nel senso se io dovessi preparare un comizio io toglierei cioè non non faccio domande se tu guardi un adesso sto lavorando a un video di Obama del 2004 del luglio 2004 studiando quel video che ha fatto sul candidato a John Kerry alle elezioni come il partito democratico e è interessante vedere come tutto tutta la campagna la presentazione di Obama fosse basata su espressione del viso voce e testo questi erano e gesti queste erano le quattro cose che io ho notato più evidenti lui ha un'ottima varietà vocale quindi quando tu parla di un pubblico non c'è interazione devi utilizzare varietà vocale che mi un pubblico che mi un pubblico che mi un pubblico che è